Flavoral 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 Cambia il mondo da così a così Possiamo mangiare meglio? Sì, basta variare l'alimentazione Quante volte mangiate carne di pollo, tacchino, coniglio, poche? Male E Agnello e Capretto, quelli nostrani, li mangiate solo a Pasqua? Sono tutte carni genuine, nutrienti, facili da cucinare Sceglierle ne vale la pena Lo dico per voi, chi sceglie con intelligenza ci guadagna Sì, oggi per avere un orologio di moda non dovete più cambiare orologio ogni giorno Dalla Svizzera è arrivato Epoch Epoch Mille mode ma un solo orologio Tiè e tiè, capito? Le piastrelle Gerflor sono belle E in più sono molto autoadesive E hop Gerflor, per pareti e pavimenti E hop È facile allevare i cincillà Noi cincillà non abbiamo grandi esigenze Cambiamo invece la riproduzione facile Eh eh, ne so qualcosa io Ragazzi giù dalla tavola Credetemi, l'allevamento dei cincillà è facile e ridificio Basta così, simpaticone Lo sanno tutti che per allevare i cincillà è sufficiente un po' di spazio per la gabbia E un minimo di assistenza giornaliera L'importante è rivolgersi ad aziende qualificate Come il Centro Italiano Cincillà A Castiglione dell'Estiviere, Mantua Telefono 0376 63 20 10 Interessati, anche tu, all'allevamento del cincillà La D-Tail Cincillà ti fornisce le famiglie dei graziosi e prolifici animaletti Garantendo il ritiro dei cuccioli e la loro sostituzione gratuita In caso di morte o sterilità Ogni famiglia è composta da un maschio e cinque femmine Ognuna delle quali riproduce da uno a tre animaletti per cucciolata Vieni a trovarci a Parma, in via Alessandria 7 O telefonaci allo 0521 72582 Mordi, 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 lecchi, 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 succhi E il dorado, il cielo, su, così Fammi vedere com'è la bocca No, troppo piccola Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi E il dorado, gelati per bocche, super Cielo, su, così Ehi, quello sì che hanno bocche, super Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi E il dorado, gelati per bocche, super Il bisogno di zucchero è proprio naturale Lo zucchero è naturale Ah sì, eh sì, ma Zucchero Ah sì, eh sì, è già Lo zucchero è pieno di vita Ah sì, eh sì, è già Zucchero Il materasso nuovo con la tua vecchia lana Un materasso nuovo Con la mia vecchia lana Con la mia vecchia lana Un materasso nuovo Secil Flex Secil Flex, che spettacolo di materasso A Roma, in via Fonte Basso 52, tredicesimo chilometro Aurelia, telefono 06 6901988. E se ricominciassimo a non cerci meglio, latte, il buon latte è ricco di salute. E se ricominciassimo a non cerci meglio, yogurt, così ricco di freschezza. E se ricominciassimo a non cerci meglio, burro, ricco di sapore, e formaggio, ricco di energia. Latte, yogurt, burro e formaggio, ricchi di natura. Buone le cipolline! Sott'olio? No! Sott'aceto? Ne sott'olio, ne sott'aceto, sono cipolline alla peperlizia Bondi. Cipolline e peperoni alla peperlizia Ponti, una delizia! Di più, una peperlizia! Sott'olio, un po' di più, una peperlizia.